Terza conferenza stampa del gruppo Tecnocasa di Frosinone e provincia presso la villa comunale della Capoluogo. Tanti i professionisti e gli imprenditori presenti e interessati alle dinamiche del mercato immobiliare creditizio. Un vero successo per gli organizzatori Gianni Roscioli, consulente Tecnocasa, e gli affiliati Giuliano Paglia, Roberto Valente e Vincenzo Valente, oltre a Stefano Cardona, responsabile dell'area Kiron Partner S.P.A. per il settore creditizio. La conferenza stampa ha lasciato ben sperare per il futuro immobiliare creditizio perché i dati hanno sancito che la ripresa a Frosinone c'è. Noi abbiamo analizzato nel primo semestre del 2016 che a Frosinone si stanno stabilizzando i prezzi dopo aver avuto negli ultimi due anni una flessione dell'8,1%. Questo non sta succedendo negli altri comuni della provincia, dopo ancora abbiamo tanti segni negativi, tranne nell'isola felice del Cassinata che l'FCA ha dato un bel indotto a tutti i comuni limitrofi. Cassino ha fatto registrare rispetto a Frosinone lo stesso numero di compravendite, più o meno intorno a 250 compravendite. Naturalmente c'è una differenza per quanto riguarda la demografia delle due città. Cassino ha una cittadina di 36.000 abitanti, Frosinone ne ha 10.000 in più. Molto probabilmente questo è il fatto che a Cassino si fanno le stesse vendite, forse qualcuna in più è da ricondurre ad un mercato un po' più dinamico per quanto riguarda realtà che abbiamo intorno alla nostra città come l'università e la stessa Fiat Auto, adesso FCA, che ha dato sicuramente grossa fiducia al nostro mercato. Frosinone città nel primo semestre 2016 ha avuto un incremento del numero delle transazioni immobiliari più 16% rispetto al 2015. Questo chiaramente è un dato importantissimo per noi, molto molto positivo. Per il secondo anno in doppia cifra, anche l'anno scorso abbiamo avuto un forte incremento appunto e quindi è di buon aspicio per il nostro lavoro a proposito dell'anno e degli anni a venire. Domanda e offerta per il settore residenziale non per cogliere tutte le sfaccettature del mercato e tracciare le nuove prospettive. Tutti ottimi relatori che hanno saputo presentare spunti importanti, ognuno nel suo settore specifico, in maniera puntuale e approfondito su quello che è l'andamento del mercato immobiliare e finanziario nei primi sei mesi della 2016, commentando i dati relativi alle compravendite di Frosinone città e periferia facendo il punto sul trend dei prezzi. Chiron Partner è una società di mediazione creditizia, la più grande in Italia per numero di collaboratori ed è una società che effettua consulenza nel settore del credito e nel settore assicurativo a tutto tondo, quindi mutui, prestiti, cessione del quinto e assicurazioni. Il mercato creditizio è finalmente in netta crescita, abbiamo un incremento a due cifre, nel mercato nazionale a livello Italia un più 44%, a livello regionale più 39%, a livello locale proprio del Frosinone del più 68% addirittura, quindi molto bene sta andando. Quali sono appunto i dati che riguardano i mutui invece del Lazio e soprattutto della provincia di Frosinone? Allora, nel Lazio abbiamo erogato nel primo semestre 2016 24 mila milioni di euro di mutui, scendendo a livello Italia 24 mila milioni di euro, a livello regionale Lazio 3 mila e 500 milioni di euro, a livello di Frosinone 9 milioni e 3 che ha generato quell'incremento del 69% semestre su semestre. Sicuramente c'è stata una ripresa per quanto riguarda il settore industriale e commerciale, ma non siamo ancora ai livelli del settore residenziale. Per quanto riguarda il settore industriale, principalmente la ripresa delle attività produttive da parte di FCA nel territorio di Cassino ha riportato un grosso entusiasmo da parte degli operatori del settore e quindi c'è stato un forte aumento della richiesta di capannoni e di laboratori. Questo ha portato anche ad avere più ottimismo per quanto riguarda il futuro e quindi c'è stata una ripresa economica nella nostra città di Cassino. Trent'anni insieme perché? Noi quest'anno festeggiamo il trentesimo anno del franchising. Il nostro fondatore, il dottore Oreste Pasquali, attuale presidente della holding del gruppo, nel 1986 ha fondato il franchising e come innovazione di quel periodo lui ha tolto le agenzie immobiliari dagli uffici e dagli appartamenti e le ha messi su strada per quanto riguarda il contatto con il pubblico. I suoi collaboratori sono diventati tutti piccoli imprenditori. A proposito, faccio anche una premessa, noi nel mondo abbiamo 2600 agenzie e siamo ubicati in tre continenti oltre al discorso dell'Europa. Nel Frusinate abbiamo 20 agenzie e una in apertura nel comune di Atina. Tecnocasa tra l'altro punta sui giovani? Sì, noi da sempre puntiamo nei giovani perché per noi è una linfa vitale che ci permette appunto di dare i nostri punti vendita, entusiasmo, determinazione affiancato ai colleghi esperti. Questi ragazzi possono intraprendere questa nuova attività. Grazie a tutti.